E' tornato a trovarci in studio, lo ringraziamo e lo salutiamo, Gianpaolo Usai, educatore alimentare, fondatore del portale ciboserio.it che è dedicato tra l'altro oltre che alla corretta alimentazione anche alla spesa consapevole. Bentrovato Gianpaolo. Buongiorno, grazie dell'invito. E' tornato a trovarci in studio naturalmente per alcuni ulteriori aggiornamenti che riguardano l'alimentazione corretta, potremmo dire educata, quindi educata alla nostra salute. Abbiamo enucleato alcuni punti in particolare, uno di questi riguarda qualcosa che è sulle tavole, se non di tutti gli italiani, di molto. Come spesso capita, prodotti di cui non si conoscono magari alla perfezione, quelli che sono i dettagli, conoscerli fa la differenza. Parliamo di margarina. Sì, infatti è uno dei prodotti che ancora prevale nei supermercati, ancora troviamo in tutti i supermercati, accanto al burro ovviamente, che è il suo omonimo, il suo equivalente animale, diciamo così. Però è strano trovare ancora le margarine sullo scaffale perché ormai già da parecchi anni la comunità scientifica internazionale ha stabilito, e questa volta in maniera, diciamo, senza dubbi, nel senso che sono tutti d'accordo, ha stabilito che è un alimento nocivo, cioè questo è il termine che si utilizza tra gli studiosi per definire questo alimento. Un alimento nocivo perché è ricco di grassi idrogenati trans. Però, nonostante, dicevo, il prodotto è ancora in commercio, addirittura la comunità europea, l'Unione Europea, ne parla a livello di EFSA, si discute dal 2015 sui grassi idrogenati, sui grassi trans, c'è tutta una serie di studi che hanno fatto e di dibattiti, sin dal 2015 e nel 2019 ha emesso un parere, l'EFSA, sulle margarine, sui grassi trans, dicendo che è giunto il momento di ridurli fortemente nella filiera alimentare, però ha dato un limite quantitativo per questi grassi trans. In particolare dice che per i produttori ne devono utilizzare massimo 2 grammi ogni 100 grammi di grassi negli alimenti, quindi non è stato comunque eliminato del tutto. Mentre negli Stati Uniti già da qualche anno i grassi trans idrogenati li hanno banditi, almeno sulla carta, hanno dichiarato che è una guerra importante per il popolo americano perché questi grassi trans sono i principali responsabili delle malattie cardiovascolari, sono i più grossi responsabili di tutti i nutrienti che ci sono nella filiera alimentare e quindi gli americani hanno detto noi dobbiamo salvare milioni di vite di nostri cittadini che ogni anno muoiono di infarto, ictus eccetera, anche perché lì hanno un problema di obesità che è agli eccessi. Quindi Stati Uniti li ha banditi già da qualche anno. L'OMS anche nel 2018 ha fatto una dichiarazione ufficiale dicendo che vanno tolti i grassi trans dalla filiera alimentare, tolti definitivamente entro il 2023. Quindi c'è questo nel loro programma, tra i loro obiettivi nel campo alimentare c'è anche questo obiettivo. Cioè nonostante dicevo noi le margarine le abbiamo ancora negli scaffali e possiamo dire che esistono due tipi di margarine a seconda del processo di preparazione. La margarina idrogenata che è la margarina classica e la margarina cosiddetta non idrogenata. La margarina idrogenata si ottiene tramite un processo di sintesi chimico che si chiama idrogenazione, come dice la parola stessa. La margarina non idrogenata si ottiene con un altro processo chimico che si chiama frazionamento. Dunque, innanzitutto va subito chiarita una cosa che se il burro è un alimento naturale, perché comunque deriva dalla panna del latte e non ha alterazioni diciamo di tipo chimico, la margarina non possiamo definirlo un grasso naturale, anche se molti pensano che sia un grasso vegetale quindi naturale. La stessa dizione commerciale di margarina vegetale, che è quella che poi ritroviamo sulle confezioni, è un po' forviante perché fa riferimento al fatto che si parte dagli oli vegetali, la margarina si ricava dagli oli vegetali di mais, di girasole, di palma, di semi, eccetera. Ma l'addizione margarina vegetale non ci dice nulla della netta differenza, netta modifica che poi avviene durante il processo di idrogenazione. Quindi a mio avviso il consumatore già dovrebbe vederlo come un prodotto non naturale ma di sintesi, perché così è. Cosa significa idrogenazione? Idrogenazione significa che vengono presi questi oli vegetali liquidi e vengono portati ad uno stato solido oppure semisolido, aggiungendo l'idrogeno in questo processo di trasformazione. La margarina è lo stato solido diciamo come il burro, poi ci sono però moltissimi prodotti oltre le margarine che possiamo trovare al supermercato che sono fatti con questi grassi idrogenati e sono allo stato semisolido. Questi vengono utilizzati dall'industria per le creme spalmabili, per i prodotti da forno come le brioche, ad esempio della colazione, biscotti, eccetera. Vengono inseriti questi grassi idrogenati o parzialmente idrogenati. Quando è semisolido sono grassi parzialmente idrogenati e questo serve all'industria perché attraverso questo processo di idrogenazione poi il grasso viene stabilizzato e ha una shelf life, cioè una durata di conservazione molto lunga. Ok. Mentre se io utilizzassi un olio di palma vergine e senza idrogenarlo, dopo alcuni giorni questo olio irrancidisce e quindi il prodotto non si può conservare. E quindi non si può neanche mettere sugli scaffali e mettere in vendita, non riuscirebbe a sostenere tutta la filiera dalla produzione appunto alla vendita. Esattamente, quindi è funzionale soprattutto all'industria questo processo di idrogenazione. Ed è proprio durante questo processo di idrogenazione che si creano appunto all'interno del prodotto i grassi trans che sono una forma non presente in natura di grassi che molti studi hanno identificato come essere i principali responsabili delle malattie cardiovascolari. In particolare vanno a danneggiare l'endotelio, quindi le pareti delle nostre arterie, dei nostri vasi sanguigni, lesionandole e da lì poi subentra il processo di aterosclerosi che è la placca che si forma nelle arterie e da lì poi l'occlusione dell'arteria, quindi di conseguenza l'infarto, l'icsus eccetera eccetera. Quindi sarebbero da eliminare, lo sappiamo già da tanti anni, le istituzioni lo hanno affermato già da molti molti anni, però in commercio ci sono ancora. Due parole sulla margarina cosiddetta non idrogenata, perché qualcuno potrebbe dire vabbè allora acquistiamo quella non idrogenata che almeno è salutare. In realtà anche lì questa margarina deriva dal frazionamento, in sostanza vengono presi gli oli liquidi di semi, di mais eccetera e viene separata, frazionata la parte di grassi saturi da quella di grassi insaturi. A questo punto poi bisogna comunque ulteriormente lavorarli con un processo ad alta temperatura e ad alta pressione. La parte satura che viene separata viene poi lavorata con alta temperatura e alta pressione. E anche questo, quindi non c'è l'idrogenazione, non viene aggiunto l'idrogeno come nella margarina idrogenata, ma quindi in teoria non si creano i grassi trans, ma la lavorazione ad alta temperatura e ad alta pressione, noi sappiamo che tutti gli oli trattati ad alta temperatura e ad alta pressione subiscono la cosiddetta perossidazione lipidica, si alterano, si altera proprio la molecola chimica e anche in quel caso tutti gli studi ci dicono che sono dannosi sempre per il sistema cardiocircolatorio. In generale producono anche un altro fenomeno che si chiama glicazione, cioè danneggiano le proteine, questi grassi alterati vanno a danneggiare le proteine del nostro sangue e quindi anche in quel caso la margarina non idrogenata non è la soluzione, diciamo così. Dovremmo puntare a utilizzare solamente dei grassi non alterati dalla temperatura e dalla pressione, quindi il burro si può utilizzare a crudo, l'olio extravergine d'oliva, perché si dice sempre che è estratto a freddo e sano, proprio per questo motivo, perché la temperatura e la pressione vanno a danneggiare questi grassi, qualsiasi tipo di olio o di grasso, se noi lo cuociamo, lo friggiamo, lo danneggiamo e un utilizzo costante e regolare di questi prodotti indubbiamente va ad alterare il nostro stato di salute. Due parole ancora su quali prodotti contengono questi grassi idrogenati, oltre alle margarine, perché non è solo la margarina, perché la margarina magari adesso non è utilizzata da tantissimi, perché più o meno si sa che non è salutare, ma quando noi acquistiamo, per dire, prodotti da forno, specialmente di bassa pasticceria, come le brioche che compriamo al bar della colazione o anche quelle nei supermercati, io le ho visionate, tra le diciture troviamo margarina oppure troviamo grassi vegetali idrogenati, quindi brioche, plum cake, biscotti, dolciumi, dolci in generale per i bambini, tutti questi prodotti di bassa pasticceria contengono i grassi idrogenati trans, e quindi sarebbe meglio iniziare a evitarli.